Ciao amore, mamma purtroppo ti devi lasciare a casa. Il gran caos della mia stanza da letto, oggi andiamo a Capranica, esattamente al Tempio di San Francesco perché insomma ho un lavoro lì. Andiamo? What a beautiful day! No, vi prego, guardate che giornata di sole oggi. Sono 16 gradi, prima erano 17, veramente il 21 di dicembre è entrato l'inverno. Invece noi praticamente qui siamo in piena estate. Eccoci qua, posizionato bene la telecamera. Eccoci qua, certo piove un po' di sole in faccia ma va bene lo stesso. Allora stavo dicendo che andiamo a Capranica perché ho un pomeriggio natalizio dove dovrò fare circa 40 minuti con le basi. Mi hanno chiesto un repertorio molto nazional popolare, anche anni 60 ma anche noi. Quindi adesso ripassiamo un po' insieme. Faccio la come fosse una bambula. Hey hey hey, i bimbi Wilson Figue. Hey hey hey, i bimbi Tu James Brown. Vorrei la pelle nera. Abbiamo un ring che fa così, datemi un marcello. Che cosa ne puoi fare? Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. E questa è in gradolichia cosa perché i bimbiサ che con il cingale è un barco sembrano. Qu significantly Sha кровi è un bacino. E quando può essere una bambina più alta, ci si saranno armati e mi piace. Vabbè, io ho ripassato un pochino più che altro le parole, naturalmente come avrete capito dalla mia voce strozzata e poi farò il soundcheck, spero che si farà il soundcheck, ma non sono sicura che si farà il soundcheck perché sono arrivata tardi, perché la mia cagnetta l'hanno operata l'altro ieri quindi naturalmente sono restata il più possibile insieme a lei, dovevo essere qui a mezzogiorno e mezzo ma non potevo lasciarla solo a tutto questo tempo, quindi arrivo adesso che sono le 3, le 10, 3, 8 minuti qui siamo a Capranica, amore? Sì This is Capranica Adesso ti faccio vedere una cosa carina Che mi fai vedere? Io la prima volta che ti ho conosciuta era sotto questo arco Ah, amore! Qui è nato il nostro amore? No, è nata la nostra amicizia E noi siamo stati un anno amici e poi dopo io ci ho provato come una malta Esatto, esattamente Però la prima prova insieme l'abbiamo fatta proprio qui a Capranica La prima prova insieme? Sì Beh, voi capirete che lui si è innamorato appena mi ha sentito cantare Esatto Benissimo Credici Oh, vedi qui c'è pure un bellissimo campanile È il Big Bang di Capranica Però è carina Capranica perché poi qui è tutto un po' medievale come stile, no? È medievale come stile Siamo arrivati? Ah, ecco, vedi questa quindi è il Tempio di San Francesco? Oh, vedi, eccola qua, questa sono io, vedi qui quella pallina lì This is Christmas Allora, siamo qui per lì Va bene, se volete vi auguriamo un bel applauso con le macie E per lì, eccole Questa naturalmente è una chiesa sconsacrata Una chiesa sconsacrata Tutto qui di posto nei meandri Nel Tietro Leguin il mio fidanzato che fa la foto a tutte queste belle ragazze, tutte queste belle ragazze, amore non ti posso lasciare solo un attimo, alle donne proprio, abbiamo pure Stefano Corona in the voice, che tanto stasera con Stefano? Un po', adesso lo decidiamo, vediamo cosa mi dice la testa, tu sei l'ultimo, quindi proprio, no, no, dico l'ultimo momento, ah l'ultimo momento, io proprio sono bionda, rimpoglionita, no, vabbè, poi lo decidi dopo, ma sì, perché tanto in base alla mia vita mi sento, mi ha dato un po' carta bianca, quindi è meglio così, va bene, lo sentiremo dopo. Olo, saluto. Stefano Orlando! Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, 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 buonasera.